Ciao Cristian, dove siamo? Tormina Film Fest backstage Cosa stiamo facendo? Ma nulla, oggi siamo ospiti Abbiamo incontrato a Matilda De Angelis Domani saremo con Salvatore Esposito Sono le ultime due serate Quindi siamo in fronte Come ti sembra questa esperienza? Ma è bello, è molto bello Sarà una delle cose che porterò nella mia vita Dopo di qua si parte e andremo a Las Vegas Ufficialmente saremo dal 20 al 28 di novembre scusatevi tutte le date a Las Vegas e rappresenterò l'Italia nel mondo Quindi vennerò lì dei brani e sarò lì in concerto Quindi sarà una bella esperienza anche quella Cerchiamo degli sponsor Per andare in America Cercheranno questi sponsor Per info, per Las Vegas Contattar, presentiamo l'Italia, arrivano mai Tutte le persone che mi seguono di continuare a seguire Magari aumentiamo questi colpi Ancora più like C'erano anche musicisti Volevo fare un concerto con tutti Comunque voglio dire che in 18 insieme ad Alessia Brucelli che sarà il mio gruppo di ballo porterò per te inventerei live Ecco a proposito dei teatri Al castello di Enna Quindi per chi vuole venire a vedere live Canterò per te inventerei Per la prima volta dopo tantissimo tempo di posse e chiusura Sarò online quindi Che dire, da dormire è tutto Buona saluta Un bacio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!